Benvenuti, nostri cari follower, prima di entrare nei dettagli, non dimenticate prima di sostenerci con un mi piace per questo video e di iscrivervi al canale attivando la campanella su tutte le notifiche in modo da ricevere tutto ciò che è nuovo ed esclusivo. Grazie a voi, quindi per domani, sabato 27 maggio 2023, tempo stabile e caldo in tutte le regioni d'Italia da nord a sud, con un sensibile rialzo delle temperature nelle ore centrali della giornata al nord e al centro, soprattutto sulle coste dell'Ilmar Tirreno e anche all'estremo sud in direzione della Puglia e anche dell'isola di Sicilia e Sardegna e le temperature andranno dai 21 ai 31 gradi Celsius all'ombra e con il periodo dell'acqua è possibile che l'attività si registrerà a qualche temporale sparso all'estremo sud e anche al nord ovest d'Italia e prevarrà il caldo anche domenica, in attesa che la pioggia torni prepotentemente a partire dal prossimo lunedì sera e alla fine si è in buona salute.